Oggi è il 6 gennaio 2019, è il giorno dell'epifania. Noi del C6 vogliamo che la metropolitana 3, linea gialla, ci sia e sia prolungata fino a Paullo. Niente compromessi, nessuna soluzione alternativa. Siamo arrivati qui in questo comune che con le sue scelte sta legando salute e mobilità ai cittadini del sud-est Milano, ma che con altre scelte sagge sta proiettando il sud-est Milano nel futuro con soluzioni che guardano alla salute e alla mobilità del cittadino. Su Befana, lascia questa calza con caramelle e cioccolatini in segno di saggezza per questo comune che propone soluzioni eco-compatibili e di bellezza. Ma lascia anche il carbone, perché non la vogliamo come soluzione.